Romagna 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 Non si riuscite Eccoci qua cari amici di Romagna Mia, apriamo così una nuova puntata insieme ricordandovi che siete in collegamento con la Romagna e questo programma è un prodotto delle edizioni musicali Casadei Sonora. www.casadeisonora.it è il nostro sito internet e naturalmente la mail è info chiocciola casadeisonora.it per le vostre richieste, dispartiti, cd e anche un semplice saluto a noi fa sempre piacere potete contattarci direttamente ma da un po' già siamo anche sulla pagina facebook quindi per gli amanti di quel insomma potete comunque comunicare anche direttamente lì. Vedo che c'è subito il primo brano che ci farà veramente scaldare sulla nostra pista da ballo, arriva la sfida dei clarini per tutti quanti noi. Grazie a tutti. 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 E continuiamo sempre con la musica che ogni giorno la casa dei sonora sceglie per voi, questa volta è il turno di una grandissima orchestra, la storia di Romagna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.